C'è una strettissima relazione tra morte e perdono, innanzitutto perché l'etimologia di perdono, che vuol dire per dono, è il significato stesso della vita. La vita viene data per dono. Comprendere il perdono vuol dire comprendere il senso della vita. Nei processi di accompagnamento al morente o nella morte, sia la morte che il perdono ci permettono di non attaccarci alle cose, di rendere il perdono tutte le cose un dono. Dolore e amore vengono trasformati in un dono, senza più attaccamento. Tutto viene donato, tutto viene dato, tutto viene donato. Quindi il perdono ci avvicina ad essere noi stessi la stessa natura impermanente della vita. La vita ci attraversa, attraversa la nostra coscienza, in tutte le sue manifestazioni, relazioni, oggetti, emozioni, impressioni. Noi non ci attacchiamo a niente, tutto è un dono. Rendiamo tutto un dono. Pensate che regalo che possiamo essere. Quanto il perdono può elevare la nostra esistenza? Elevare la nostra esistenza. E la morte è uguale. La morte in maniera completamente opposta ci permette di entrare istantaneamente in una dimensione sobria, essenziale della vita, né non attaccarci, né non osservare tutto da una condizione in cui dovrà cambiare tutto, stato incluso del corpo. Non possiamo neanche attaccarci al corpo, considerare corpo, emozioni, mente, tutto come in affitto, con una data di scadenza. E quindi utilizzare al meglio queste cose che ci sono state date, al meglio per manifestare in questa vita valori, per vivere in maniera completamente soddisfacente. Quindi entrambi ci insegnano il non attaccamento, entrambi ci insegnano la sobrietà. Entrambi ci insegnano il valore della vita come dono, apprezzare il valore della vita come dono. E sono intrinsecamente relazionati, interdipendenti, perché nei processi di accompagnamento alla morte il perdono è uno di quegli elementi, una di quelle pratiche così fondamentali proprio perché ridimensiona il nostro passato, ci permette di liberarlo, di risolverlo in gratitudine. Ci permette di perdonare i sospesi, ci permette di migliorare la relazione con noi stessi, con noi stessi e ci permette di ridefinirci, ridefinire noi stessi attraverso la trasformazione in un dono della nostra interresistenza e quindi di avere quella leggerezza, quell'energia, quel cuore capaci di poter, capaci di poter permettere a noi stessi di affrontare la morte nel migliore, nella migliore maniera possibile. Quindi diciamo che sono due elementi che combaciano in uno stesso sentiero, che è il sentiero della comprensione di cosa sia la vita.